Qualcuno ci chiama, ci dice che il posto di Durazzo è aperto. E io ho seguito la folla senza rendersi bene conto a quello che si andava incontro. In dieci minuti eravamo in diecimila. Mio marito mi chiede, ce la fai a salire con la corda? Sì. Noi vedevamo le tv italiane, tutti parlavano l'italiano. Era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia, Italia, Italia. Scappare era una parola grande perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. facevano tutti il segno della vittoria. E io pensavo, ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno. E io pensavo, ma che cosa ha avuto?